Ciao amici ed amiche di YouTube, bentrovati ad una puntata speciale del nostro cielo della settimana perché oggi parliamo della prima luna nuova dell'anno, la luna nuova in eclissi di lunedì 8 aprile. Ma prima di entrare nel vivo le solite raccomandazioni, iscrivetevi al canale che sarà sempre più grande e più bello, attivate la campanella per non perdere nessuna delle nuove uscite e se volete leggere l'oroscopo speciale di Pasqua lo trovate al link qui sotto. Allora, se siamo pronti, partiamo! Allora, io direi di entrare dritti nei temi della serata perché sono tanti. Prima settimana di aprile, settimana in cui accadono tantissime cose. Abbiamo il Sole in Ariete, abbiamo Mercurio in Ariete che va retrogrado in grano alla retromarcia il 2 e rimarrà retrogrado per buona parte del mese. Abbiamo Venere che lascia i pesci ed entra in Ariete il 5 aprile e quindi anche Venere ha chiuso un ciclo, lascia l'ultimo segno ed entra nel primo segno dello Zodiaco, sinonimo in qualche modo di nuove partenze sul fronte dei rapporti. E poi stiamo marciando verso la luna nuova in Ariete di lunedì 8. Ed è di questo che parliamo stasera. Prima luna nuova di primavera, prima luna nuova dell'anno zodiacale, appena cominciato con l'equinozio di primavera, quest'anno il 20 di marzo, gli ho dedicato un approfondimento scritto che se non l'avete letto andatevelo a ricercare quello con l'aquilone perché un po' si parla del senso di questo periodo. Ed è di questo di cui parliamo stasera, la prima luna nuova dell'anno in eclissi. Si forma lunedì 8 aprile alle 20 e 20 della sera, quindi se volete, diciamo, seguirla con un piccolo rituale segnatevi l'orario, le 20 e 20, quindi a fine giornata, e si forma al diciannovesimo grado e 23 dell'Ariete. Per cui stasera parleremo molto del diciannovesimo e del ventesimo grado dell'Ariete. Luna nuova particolarmente importante. Poi effettivamente qualcuno mi ha fatto notare che a tante lune nuove e a tante lune piene dico che è particolarmente importante, una delle più importanti di quest'anno. Però è vero, le fasi lunari sono veramente fondamentali perché segnano il nostro tempo e segnano il tempo degli inizi, come la luna nuova, e il tempo in cui le cose le vediamo con maggiore chiarezza, come la luna piena. E quest'anno veramente ce ne sono alcune di molto significative, in particolare questa, perché? Perché già la luna nuova è una fase che parla di inizi, parla di nuove partenze, di situazioni che si schiudono, di novità che partono, di novità da seminare, di azione, per cui già quello di per sé parla di qualcosa di nuovo che comincia ad agire. In più, metteteci, che è la prima luna nuova di primavera, che è la stagione in cui le cose cominciano ad accadere dopo essere state lungamente seminate e lungamente incubate. È una luna nuova che accade una settimana dopo Pasqua, per cui in quello che è forse il simbolo più grande di tutti, di rinascita, di risurrezione, di rinnovamento e di dare inizio ad una nuova vita, per cui ha proprio un grande potere degli inizi e in più è una luna nuova in eclissi. Piccolissima parentesi, le eclissi sono le lune nuove e le lune piene che accadono in concomitanza, in prossimità dei nodi lunari. Questo le rende particolarmente importanti, le rende particolarmente intense e gli dà anche un che di carmico, come se ciò che inizia alla luna nuova o ciò che diventa manifesto alla luna piena in eclissi andasse a toccare dei nodi che in qualche modo vanno sciolti e che ci trasciniamo da molto tempo. Per chi crede nella reincarnazione, magari ce li trasciniamo addirittura da alcune vite precedenti, ma anche per chi non ci crede, non ha importanza, ha comunque a che fare con qualcosa che è assolutamente radicale, che viene dall'infanzia, che viene dalla nostra notte dei tempi, per cui figuriamoci che importanza possono avere. Altro discorso, l'abbiamo già fatto due settimane fa in occasione della luna piena del 25 marzo, anche essa in eclissi. Le eclissi sono dei fenomeni che non sono soltanto ciclici, ma sono anche seriali, nel senso che ciascuna eclissi appartiene ad una serie, appartiene ad una famiglia, che si ripresenta ogni 18 anni, ed è come se di 18 anni in 18 anni si ripresentassero quelle caratteristiche, quelle qualità che appartengono a quella famiglia di eclissi. In particolare questa è una famiglia di eclissi particolarmente favorevole, particolarmente, non voglio dire fortunata perché è un tema che appartiene poco all'astrologia, ma particolarmente incoraggiante, particolarmente stimolante. Ed è una serie che si chiama Otto Nord, che è ancora nella sua fase crescente, si è manifestata per la prima volta solamente nel 1501, quindi rispetto all'arco della vita di un eclissi che è di 1244 anni, siamo ancora, come dire, nel primo tempo, siamo ancora nella sua infanzia. E che, andando indietro di 18 anni in 18 anni, ha avuto la sua più recente manifestazione nel 2006, ancora prima nel 1988 e poi ancora prima nel 1970 e poi andate ancora indietro di 18 anni. Quindi alcune tematiche, alcuni nodi che smuove questa eclissi potreste averli già sperimentati nel 2006, nel 1988 e per chi ha raggiunto una certa età anche nel 1970. Quindi ritornate a ricollegare mentalmente questi periodi perché potrebbero esserci delle situazioni che ritornano. Come ogni luna nuova è un seme, è un qualcosa che inizia a lavorare sotto traccia e che poi si mostra in maniera più chiara, prima 15 giorni dopo circa, 14 giorni e mezzo, con la sua corrispondente luna piena, che in questo caso è la luna piena in Scorpione del 23 di aprile. E poi, su base più strutturata, sei mesi dopo, in questo caso con la luna piena in Ariete del 17 ottobre. Per cui segnatevi mentalmente anche queste due date, perché è probabile che ciò che cominciamo a seminare con questa luna piena, con questa luna nuova, mostrerà dei tratti più definiti già tra 14 giorni con la luna piena del 23 aprile e poi mostrerà dei frutti più evidenti tra sei mesi con la luna piena in Ariete del 17 di ottobre. Allora, intanto ogni volta che parlo delle eclissi mi verrebbe voglia di fare delle digressioni gigantesche. Perché? Perché ogni eclissi in qualche modo ha avuto, ogni famiglia di eclissi, e quindi anche questa, ha avuto una sua genesi, una sua prima manifestazione, di cui si fa il tema di nascita e dalla quale si traggono alcune caratteristiche che appartengono alle eclissi e che si ripresentano ogni volta che l'eclissi torna. Andando ad analizzare l'origine di questa eclissi dell'8 di aprile, ed è un eclissi di sole ovviamente, perché essendo una luna nuova è una congiunzione tra il sole e la luna e quindi è la luna che si mette in mezzo alla Terra e il sole e quindi la oscura. Da noi questo non si vede, però in qualche modo anche quando un eclissi geograficamente non è visibile è comunque molto molto forte. Allora, dicevamo, andando ad analizzare la famiglia a cui appartiene l'eclissi di lunedì 8, abbiamo visto già due settimane fa che è un eclissi che ha a che fare con lo scavare in cerca di risorse nascoste. Non so se vi ricordate, il simbolo sabbiano associato alla sua genesi parlava di petrolio, petrolio inteso come risorsa nascosta, per cui ha proprio a che fare con lo scavare, con l'andare a tirare fuori quelle che sono le nostre risorse ancora non realizzate, ancora non manifestate e soprattutto proprio come il petrolio c'è la possibilità che queste zampillino e che in qualche modo sporchino quella che è la nostra vita così come apparecchiata. Per cui se io scopro un talento, un'attitudine, un desiderio, un qualcosa che mi porta in una direzione diversa rispetto a quella che è la direzione della mia vita di quel momento, anche trovare la forza necessaria per fare i dovuti aggiustamenti fuori affinché il fuori rispecchi il dentro e non fare il contrario, cioè mettere un tappo a questo sottosuolo e ricacciare questa risorsa all'interno. Quindi ha a che fare con il cambiamento. In particolare, essendo questo il tema di questa famiglia di eclissi, questa eclissi qua parla proprio di lampi di genio, di idee, di aprire gli occhi, di avere delle intuizioni che in qualche modo possono portarci lontano, ad allontanarci un po' da quello che è il nostro nucleo abituale. E quindi tipicamente una luna nuova che può portarci ad aprire gli occhi e a dire ma io cosa ho a che fare con quella gente, con questa situazione, perché porto avanti questa dinamica da così tanto tempo, come ho fatto ad accettarla passivamente, come ho fatto a non accorgermi che non mi funzionava. E da qui in poi ricordatevi che siamo agli inizi della primavera, la stagione in cui le cose cominciano ad avvenire realmente, in cui tutto ciò che abbiamo seminato a livello di propositi comincia poi ad essere agito. E quindi in qualche modo è come se ci spingesse a muovere un primo passo che va verso una direzione che ci appartenga di più, che ci somigli di più, soprattutto nel momento in cui ci porta ad aprire gli occhi e a dire io in qualcosa di piccolo o di grande che mi appartiene non mi riconosco più fino in fondo, ho bisogno di prendere una strada differente. Tutto questo lo sto dicendo a segni unificati, poi alla fine della diretta andiamo a fare anche qualche dettaglio rispetto ai vari segni o rispetto al vostro tema di nascita, però tutto questo discorso è un discorso che ha, diciamo, un'importanza che si avverte a tutti quanti i gradi dello zodiaco, quindi non vi legate eccessivamente al vostro segno. La seconda cosa da fare, quindi in qualche modo il tema di fondo di questa luna è proprio smuovere l'azione, smuovere l'azione soprattutto nel momento in cui ci porta in una direzione diversa dal solito. È una luna nuova che ci porta a muovere quel primo passo da cui parte qualunque viaggio, lungo o breve che sia, e che è un primo passo in qualche modo un po' più complicato proprio perché spinge a segnare il passaggio tra spento e acceso, tra la stasi e il movimento. Poi tutti i passi che vengono dopo, che possono essere anche tantissimi nei casi di un lungo viaggio e quindi di un grande progetto, di un grande cambiamento, di una trasformazione di vita, vengono via via più semplici proprio perché hanno molto, devono molto a quel primo passo, quel primo passo che è il momento in cui uno da fermo dice ok mi rimetto in moto, smuovo le acque, mando quella mail, affronto quel discorso, faccio quella richiesta, quel primo passo è più difficoltoso ed è proprio ciò che questa luna nuova ci spinge a fare. La seconda cosa che ho fatto è stato analizzare un po' tutto il cielo nel momento in cui si forma la luna nuova ed è molto interessante, primo perché in quel momento c'è una grandissima concentrazione di pianeti tra i pesci e l'ariete, tutti nella sesta casa, quindi l'obiettivo di questa luna nuova non è un cambio estemporaneo per poi tornare sulla via maestra, ma è proprio costruire un nuovo ordine, nuove abitudini, nuove regole, nuove dinamiche, qualcosa che possa poi durare nel tempo, quindi un primo passo sì con la spinta della ribellione per certi versi, ma anche con un ordine, con una pianificazione, con una presenza di spirito perché ciò che stiamo andando a fare è proprio seminare una vita diversa e non fare un breve giro di campo per poi tornare ad accucciarci in una certa zona di comfort, quindi questa è la prima cosa che salta all'occhio. La seconda cosa che salta all'occhio è che tutti questi pianeti in sesta casa formano dei sestili, quindi degli aspetti positivi, con Plutone in quarta casa, quindi questa è un'ulteriore conferma che stiamo andando a costruire delle nuove fondamenta, qualcosa che possa poi sorreggere dei progetti nel tempo. Terza cosa che salta all'occhio è che abbiamo Giove e Urano in settima casa e un ascendente in bilancia e quindi questo nuovo ordine passa prevalentemente per una riformulazione dei rapporti, cioè come io mi rapporto agli altri, quanto do, quanto ricevo in cambio, quanto accetto e quanto sono in grado di smuovere ciò che non mi piace più. Per cui è una luna nuova, ricordatevi che è in Ariete e l'Ariete in qualche modo è il primo segno, è colui che rimette in moto la macchina dello zodiaco, è il requieto ed è il ribelle, per cui ha proprio a che fare con il fatto di smuovere le acque e di non accettare più passivamente ciò che non ci sta più bene, ma tutto questo nella logica della costruzione di un nuovo edificio che parte dalle fondamenta e da basi solide. Poi, come al solito, e qua veramente anche entusiasmante, per andare a guardare una luna nuova, si vanno a guardare i simboli sabbiani, il simbolo sabbiano in cui si forma. In questo caso ne ho presi due, perché la luna nuova si forma a metà del diciannovesimo grado dell'Ariete per poi proseguire al ventesimo, e ho trovato due simboli fortissimi, molto diversi uno dall'altro ed estremamente complementari. Anche qui quello che sto facendo è analizzare il messaggio della luna nuova un po' per tutti i segni, poi entriamo nel dettaglio. Il diciannovesimo grado dell'Ariete, dove la luna nuova si comincia a formare, dice un giovane che nutre gli uccellini in inverno. Allora, per chi non li conoscesse, i simboli sabbiani sono 360 immagini di grandissima potenza che sono state elaborate un centinaio d'anni fa, negli anni 30 del Novecento, da un grande astrologo che era Mark Edmund Jones e da una sensitiva. Per ogni grado dello zodiaco c'è un'immagine e solitamente tutte le parole che utilizza, le immagini che utilizza hanno un senso. Qui abbiamo un giovane che nutre gli uccellini e in inverno, quindi innanzitutto abbiamo un giovane, quindi qualcuno che ha una prospettiva di costruzione, che guarda al futuro, che sta ancora nella prima parte della propria vita e ha ancora delle scelte da fare, cosa che simbolicamente vale un po' per tutti, perché questo cielo del 2024 e questa luna nuova in particolare hanno anche un po' il senso di dirci finché l'arbitro non fischia la partita è pienamente in gioco e quindi il primo errore che uno fa è dire ma alla mia età che mi metto a fare, invece finché c'è l'infa vitale c'è possibilità di cambiare. Comunque un giovane che nutre gli uccellini, anche qui gli uccellini sono creature che sono fatte per volare, ma per come ce le mostra il simbolo è come se fossero in fase di ancora di ancora non avessero spiccato un volo, fossero ancora in una fase in cui stanno imparando a farlo, comunque si accingono a aprire le ali e a spiccare un volo, perché tutto questo è in inverno, che è la stagione dei preparativi, è la stagione dell'incubazione del progetto, quindi il giovane che nutre gli uccellini in inverno è un po' come qualcosa che si va preparando, che ha il senso di volare ma che ancora non vola, che ha il senso della manifestazione ma che è ancora in una fase preparatoria e quindi è un po' il proteggere e coltivare il proposito costruendolo passo dopo passo, cioè non far volare l'uccellino fin tanto che non è ancora pronto a farlo, cioè aspettare il momento giusto per farlo, però il grado successivo che è il ventesimo grado dice un pugile sale sul ring e questa invece è l'espressione massima dell'azione, del lottare per ciò che desidero, dell'agire concretamente, quindi guardate che coppia di simboli, una che dice, parla dell'inverno, quindi la stagione che ci siamo lasciati alle spalle e che dice un giovane nutre gli uccellini in inverno, quindi protegge, coltiva i propri propositi, li mette a fuoco, non agisce prima che sia il tempo, però l'altro che invece è un simbolo totalmente primaverile, il pugile scende sul ring, il che significa? Va bene che da un lato c'è bisogno di mettere a fuoco i propositi, gli obiettivi di seminarli facendo passi della giusta lunghezza senza affrettare, ma arriva poi il momento in cui c'è bisogno di mettere i guantoni e di scendere sul ring, che è quello che dicevo prima, cioè arriva il momento di muovere un primo passo, che proprio perché il primo in qualche modo ci porta a dover rompere gli indugi, a dover prendere coraggio, a dover dire ok lo faccio, ma voi pensate all'ariete, pensate al mese di aprile, pensate a quel primo germoglio che sta lì da tutto l'inverno, che piano piano ha messo delle radichette verso la superficie, a un certo momento deve sbucare fuori, deve sbucare fuori con il rischio che ci sia una capretta che se lo mangia, ma fuori ci sono anche la luce e il calore che gli permettono di costruire, di portare ad essere una pianta, per cui a un certo punto arriva il momento in cui bisogna uscire allo scoperto, bisogna girare le carte, bisogna lanciare i dadi, bisogna provarci, bisogna mettere i guantoni e lottare, ed è esattamente il senso di questa luna nuova, che fondamentalmente parla di dare fuoco alle polveri, di tutto ciò che sono mesi, se non anni, che ci penso, ci ripenso, ci rimuggino, lo metto a fuoco, l'ho capito che va cambiato in un certo modo, a un certo momento ti rimbocchi le maniche, metti i guantoni e scendi sul ring. Quindi è una luna piena, una luna nuova di estrema potenza da questo punto di vista. In tutto ciò c'è anche il fatto che è in eclissi, quindi che è potenziata, che va ad attingere a qualcosa che potrebbe essere karmico, che potrebbe essere qualcosa che non siamo mai riusciti a smuovere prima. Adesso piano piano andiamo a guardare segno per segno quali sono le aree che più tocca, però con due precisazioni. La prima è che tutto ciò che abbiamo detto finora è la vera radice del discorso, poi un segno potrebbe avvertirla più in una certa area e un altro segno in un'altra, ma questo senso di risveglio e di dire smuoviamo quelle situazioni che sono ferme da tempo e soprattutto riaccendiamo, rimettiamo i guantoni e scendiamo sul ring riguarda un po' tutti e dodici. La seconda precisazione è che oltre il segno zodiacale di ciascuno di voi che è molto importante, è molto importante se la conoscete anche la casa in cui cade questa luna nuova nel vostro tema di nascita. Per cui se avete il tema di nascita, se non ce l'avete sviluppatelo, perché è un grafico, lo si fa sul mio sito nella sezione Astro Tools e tra l'altro piano piano sto inserendo anche tutte le descrizioni delle varie posizioni, quindi mentre prima vi usciva solo un grafico, adesso vi esce un grafico in cui poi alcune parti sono anche spiegate. Secondo poi andate a cercare sul tema di nascita in quale casa cadono il diciannovesimo e il ventesimo grado dell'ariete. Potrebbe essere che nel vostro tema di nascita a questi due gradi non troviate nulla, ma non ha importanza perché in realtà stiamo parlando di una luna di transito, quindi nel cielo in questo momento, e vogliamo capire dove va ad agire nel vostro tema di nascita. Come lo facciamo? Cerchiamo il diciannovesimo e il ventesimo grado dell'ariete e vediamo in che casa si trova, perché questo potrebbe darci un'indicazione sull'area di esperienze di vita in cui poi si fanno più avvertire i suoi effetti. Come combinare le due informazioni? Il vostro segno zodiacale ci dà un tema più generico, laddove la casa in cui la luna nuova si forma nel vostro tema di nascita ci dà un'informazione più specifica. Poi alla fine del discorso vi farò magari qualche esempio, però voi partite dal vostro segno, adesso parlerò dei segni e delle case, partite dal vostro segno e questo vi dà il quadro di riferimento più ampio. Dopodiché andate ad ascoltare anche l'oroscopo legato alla casa di cui si parla, perché la casa del vostro tema di nascita vi dice più specificamente ancora in quale ambito di vita potrebbe essere più avvertibile questa luna nuova. Allora partiamo dall'ariete e da chi ha la luna nuova in prima casa. Qua ovviamente la domanda della luna nuova in prima casa è chi sono, cosa sono in grado di esprimere, finora ho espresso tutto di me o no? E la risposta ovviamente è no, nel senso che ci sono tantissimi lati di noi che magari non siamo ancora riusciti a tirare fuori e questa luna nuova in ariete, per l'ariete e per chi ce l'ha in prima casa, potrebbe coincidere con un'occasione, con una spinta a mostrarsi in una luce diversa, in una veste nuova, a fare qualcosa che non abbiamo mai fatto prima, a cambiare il nostro approccio nei confronti del mondo esterno. Guardate che basta anche qualcosa di molto piccolo o di molto superfluo se vogliamo, un cambio di look, un cambio di atteggiamento, un cambio di passo, il fatto di mostrarsi in maniera differente. Quindi per l'ariete, ma anche se la luna nuova nel vostro tema di nascita cade in prima casa e quindi se avete il diciannovesimo grado dell'ariete in prima casa, fondamentalmente tenete d'occhio tutto quello che vi può portare a mostrarvi al mondo in maniera diversa, dal punto di vista fisico, dal punto di vista delle energie personali, dal punto di vista del ruolo e di ciò che gli altri proiettano in voi, soprattutto se quello che gli altri vedono in voi vi comincia ad andare un po' stretto, vi comincia a sembrare limitante, oppure se ad un livello più profondo vi sembra di reprimere un lato che il resto del mondo ancora non conosce e di tenerlo nascosto per paura di emergere. A quel punto è esattamente quello il momento giusto per cominciare a farlo trapelare, per cambiare l'esterno affinché somigli all'interno e quella si chiama espressione, anziché condizionare l'interno affinché somigli all'esterno e quella si chiama repressione. Quindi è una luna nuova particolarmente importante. Andiamo ancora indietro, arriviamo ai pesci e a chi ha la luna nuova in seconda casa. Qui la domanda di fondo è quanto valgo e questa luna nuova potrebbe darvi delle occasioni per chiedere di più, per essere più valorizzati sul lavoro, se ci sono delle mansioni che non vi sono mai state riconosciute per chiedere che vengano riconosciute, così come degli straordinari, se date più di quanto non riceviate in cambio è l'occasione giusta forse anche per aprire un discorso in questo senso, fate attenzione, può portare delle notizie poi che riguardano i soldi, può portare delle notizie che riguardano l'aspetto economico e pratico della vita, fate attenzione ai talenti perché tipicamente con una luna nuova in seconda casa, e questo vale per i pesci ma anche per chi ce l'ha nella seconda casa del proprio tema di nascita, possono apparire dei nuovi talenti, delle attitudini che uno magari non aveva mai considerato o sulle quali non aveva mai puntato, io ho conosciuto spesso pesci in grado di fare delle cose straordinarie e soprattutto legate al disegno, alla fotografia, alla musica, al ritmo e di rispondermi ma non ho mai pensato che ci si potesse lavorare, invece no, è una luna nuova che spinge a cercare il modo di mettere a reddito, scusate la volgarità del termine, alcune attitudini, alcuni talenti perché in una macchina che funzioni bene, il reddito è il frutto di un talento ben espresso e quindi più tu becchi quello che ti viene meglio in maniera spontanea, senza troppe forzature e più lì poi si crea un circolo virtuoso. Allora, andiamo indietro, arriviamo all'acquario e a chi ha questa luna nuova in terza casa. Questa potrebbe essere veramente una luna nuova che porta notizie, che porta contatti, che porta nuovi incontri, che porta la possibilità di mettersi in mostra più del solito, per cui fate attenzione proprio a tutto quello che ha a che fare con la comunicazione. Una mail finita nello spam che invece può essere importante, un nuovo incontro, un appuntamento, un messaggio, una chiamata per una selezione, cioè siamo in un momento in cui l'acquario sta per decollare, sta finendo una fase estremamente faticosa e stiamo entrando in una seconda metà dell'anno che invece è di grande espansione, in molti casi possono essere proprio in questa prima metà di aprile delle chiamate, dei messaggi, delle notizie, il passaparola, il fatto che qualcuno parli di voi a qualcun altro, che vi può portare veramente a sbloccare una certa situazione oppure ad aprirvi una nuova strada. Chiaramente parliamo di una luna nuova nella terza casa, per cui non solo sono notizie che vi arrivano e che possono essere estremamente importanti, ma è anche una spinta a dire le cose in maniera diretta, per cui se ci sono dei discorsi non affrontati, se ci sono delle questioni che preferite, finora avete preferito tenere per voi, ma che invece vi fanno rodere dentro, arriva il momento magari di aprire un discorso, superando la paura di non piacere, superando la paura di non essere capiti. Probabilmente per l'acquario è quello, quel petrolio, che vuole uscire fuori, cioè il fatto di non ricacciarsi dentro tutto ciò che può apparirvi scomodo, perché in realtà lo scomodo è tenerselo dentro, mentre invece per quanto poi richieda di riaggiustare certe dinamiche, averlo tirato fuori già vi farà sentire molto meglio. Comunque occhio, cellulare, email, annunci per chi cerca un lavoro, nuovi incontri che possono schiudere le nuove strade, perché la settimana prossima è estremamente favorevole da questo punto di vista. Davvero si può trattare di sbloccare una situazione che vi attalaglia da tempo, oppure di aprirvi una nuova strada, che rispetto a quella attuale è un'ottava, se non due ottave più in alto. Andiamo ancora indietro, arriviamo al Capricorno, o chi ha questa luna nuova in quarta casa. Qui la domanda della luna nuova è dove voglio stare? Possono esserci delle situazioni, delle novità, delle notizie che riguardano la casa, specie per chi la sta cercando, tra il Capricorno o chi ha questa luna nuova in quarta casa, così come possono esserci delle novità sul fronte del lavoro o sul fronte dei rapporti che portano a chiedersi, ma dov'è il luogo in cui potrei stare meglio? E quindi possibilità di cambiare azienda, possibilità di rilocarsi altrove, di estendere il proprio raggio d'azione verso altre città. In certi casi, per il Capricorno, che nel 2024 comincia a considerare un cambio di vita, qui si cominciano a stabilire le condizioni necessarie per un trasloco, per un trasferimento, per un movimento che riguarda la casa. Per cui tenete d'occhio tutto ciò che, anche offerte di lavoro in altre città o comunque possibilità di trasferimenti, di mobilità, di trasferta, di trascorrere un periodo in un'altra sede, perché in questo momento è come se il Capricorno fosse in cerca del suo posto giusto nel mondo, laddove quello che lo è stato per lungo tempo evidentemente non è più quello giusto. Andiamo ancora indietro, arriviamo al Sagittario e chi ha questa luna nuova in quinta casa, la quinta casa, casa dell'espressione, del benessere, può essere una novità o una notizia che riporta ottimismo e Dio se lo sa quanto il Sagittario ne abbia bisogno dopo questa prima parte dell'anno, o che comunque permette di sganciare la zavorra di una preoccupazione che ha pesato nei mesi scorsi. Per cui è una luna nuova assolutamente favorevole, è una luna nuova nella casa dell'espressione, per cui occhio alle idee creative, a tutto ciò che vi viene come intuizione, come illuminazione, perché può essere molto positiva, ma soprattutto è una luna nuova che segna un po' un cambio di passo tra una prima parte dell'anno, questi primi tre mesi di estrema preoccupazione, di estrema pesantezza e una seconda parte, una primavera che in qualche modo piano piano permette di risalire una china, per cui potrebbero o aprirsi delle soluzioni o comunque chiudersi delle cose che avete vissuto come problematiche. Andiamo ancora indietro, arriviamo allo scorpione e chi ha questa luna nuova in sesta casa? Qua la domanda, anzi l'affermazione di questa luna nuova è rimettiamo in ordine certe situazioni, facciamo ordine. Per cui è una luna nuova che porta a riorganizzare certe dinamiche che soprattutto per lo scorpione che da poco ha avuto un cambio di vita, penso a chi si è trasferito, penso a chi ha avuto da poco un bambino, penso a chi ha dovuto rivedere un assetto di coppia, permette di ricreare una serie di punti fermi, di ristabilire una serie di confini, di sapere esattamente come devono girare le cose, per cui è uno scorpione che alla fine di maggio si libererà finalmente dell'opposizione di Giove e che piano piano sta cominciando anche a riorganizzarsi una vita in maniera diversa. Anche una luna nuova che parla di recupero psicofisico, per cui per chi è stato poco in forma, diciamo che comincia una ricostituzione e per alcuni potrebbe essere un momento in cui cominciare una dieta, cominciare un percorso di benessere, eccetera, eccetera. Quindi è una luna nuova che ricostruisce un nuovo ordine sia esternamente che anche internamente, sia nel tempio esteriore che nel tempio interiore. Andiamo ancora indietro, arriviamo alla bilancia e chi ha questa luna nuova in settima casa? La luna nuova in opposizione è fondamentale perché riguarda il rapporto con gli altri, un tema che per la bilancia è un tema fondamentale, per cui probabilmente è una luna nuova che stimola un confronto e una maggiore definizione di qualcosa che evidentemente in questo momento è ancora troppo vago. Per cui è possibile che qualcuno chieda una risposta, insista per avere maggiore chiarezza sui rapporti, chieda in maniera diretta in un rapporto di coppia agli inizi, io e te che siamo, cosa possiamo diventare, cosa vogliamo l'uno dall'altro, vogliamo le stesse cose, guardiamo nella stessa direzione, abbiamo strada davanti oppure un percorso si è esaurito e comunque sia è una luna nuova che porta proprio la bilancia a chiedere risposte chiare sul fronte dei rapporti. Quindi se c'è una trattativa che va avanti da tempo, arriva il momento di firmare un contratto o di capire che non è cosa. Se c'è una conoscenza iniziale che procede in maniera un po' a rilento, probabilmente è una luna nuova che porta a dire ma vogliamo o non siamo, ci sei o non ci sei? E più in generale è un periodo in cui la bilancia ha proprio bisogno di capire esattamente chi ha dall'altra parte, cosa può aspettarsi, di chi può fidarsi, di chi no e quindi vuole eliminare un po' tutte quelle situazioni che sono ambigue. Andiamo ancora indietro, vergine oppure luna nuova in ottava casa. Allora questa è proprio il sinonimo del punto e a capo, del dare un taglionetto a tutto ciò che non ha funzionato, creare una pagina bianca e cominciare nuovamente a scriverla. Quindi potrebbe essere un momento in cui la vergine fa un cambiamento radicale, lascia una casa per trasferirsi altrove, lascia un ufficio per trasferirsi altrove, chiude una collaborazione, tronca un'amicizia, accantona un progetto perché evidentemente hanno fatto il loro tempo, ma allo stesso tempo è il primo seme di un qualcosa che finalmente sta cominciando ad uscire fuori, per cui è veramente il punto a capo. Per la vergine e per chi ha questa luna nuova in ottava casa, pensate al serpente che fa la muta della pelle, la lascia lungo la strada perché così ne può indossare una luna nuova, è esattamente quello, cioè lasciamo cadere una vecchia pelle e cominciamo piano piano a ricostruire. È una luna nuova assolutamente favorevole per chi ha bisogno di un mutuo, di un prestito, di un finanziamento, di risorse per realizzare un progetto, per cui se avete una situazione appesa con una banca o se state pensando di chiedere un prestito è il momento giusto per farlo o per insistere in una richiesta e probabilmente è un momento giusto anche per aggiustare una serie di situazioni che hanno a che fare con gli enti. Dulcis in fundo e poi chiudo è una luna nuova che risveglia la passione, che in molti casi può essere diciamo quel carburante per riaggiustare un rapporto che non funziona o comunque per risvegliarsi. Andiamo ancora indietro, arriviamo al leone e chi ha questa luna nuova in nona casa? Qua il tema è proprio quello di un'occasione per allargare il raggio d'azione, per arrivare più lontano, per arrivare dove non sei mai arrivato prima e quindi per ritentare un'impresa che non ti è mai riuscita, per rimettersi in moto, per viaggiare, per conoscere situazioni differenti che danno nuovi stimoli, per cui potrebbe banalmente o letteralmente tradursi con un'opportunità di viaggio o comunque con la conoscenza di persone che non appartengono alla cerchia abituale, ma in questo periodo se avete, se siete del leone o se avete la luna nuova in nona casa, cosa che solitamente succede all'ascendente leone come nel mio caso, tenete d'occhio tutto quello che può portarvi ad allargare gli orizzonti e quindi rapporti con altre città, offerte di lavoro con altre città, rapporti con all'estero, opportunità di lavoro che portano a viaggiare o a spostarsi, andare in trasferta, ma anche simbolicamente la possibilità di studiare nuove cose, di cimentarvi in un ruolo rivestendo mansioni che non avete mai rivestito prima, perché chiunque si allontana dalle abitudini torna a casa con una conoscenza, con una consapevolezza o con delle opportunità in più. non a casa, espansione, allargamento, quindi importanti anche le conoscenze con persone che stanno in altre città, guardate che come tutte le lune nuove basta qualcosa di piccolo, per cui decido di mettere la mia attività online, decido di farmi tradurre in altre lingue, alzo il telefono e cerco qualcuno in una città con la quale sento di avere affinità che svolga la mia stessa attività e dico proviamo a fare una collaborazione, qualunque cosa sia, poi verrà costruita nel tempo, però tenetela d'occhio perché in questo momento l'espansione è il tratto dominante del vostro cielo. Andiamo ancora indietro, cancro e luna nuova in decima casa, cosa che normalmente spetta all'ascendente cancro, ma non necessariamente. Qui il tema di fondo è maggiore impegno, maggiori responsabilità, ma maggiori prospettive di crescita, quindi è una luna nuova che potrebbe portare un esame, vero o simbolico che sia, una selezione, una verifica del vostro rendimento che potrebbe coincidere con la consegna di un progetto, comunque con la finalizzazione di un percorso al quale lavorate da tempo, è qualcosa che può farvi sentire un filo d'ansia o comunque gli occhi addosso, che richiede il massimo della concentrazione e dell'impegno, ma che può poi farvi fare un salto di qualità e quindi portare una promozione, un riconoscimento, un salto di livello, tipicamente può coincidere con una laurea, dove io devo mettere sul campo tutto quello che ho fatto fino a quel momento, dove c'è un esame, c'è un voto, c'è la sensazione di dire speriamo che vada bene, ma c'è anche la chiusura di un ciclo e l'apertura di un qualcosa che sta ad un livello superiore. Il cancro in questo momento è in questa fase qui, per cui si gioca una partita importante, però contemporaneamente ha anche Giove Urano dalla sua parte, per cui è come se fosse in una piena sessione d'esami, laddove un esame non è solamente il diploma di laurea, ma è anche un capo che ti dà un incarico diverso e ti tiene d'occhio per vedere come ti muovi, che ti dà maggiore autonomia per vedere come la sai gestire, per cui sono anche situazioni di questo tipo, però contemporaneamente ha anche tutte le carte in regola per superarli a pieni voti. Andiamo ancora indietro, arriviamo ai gemelli o a chi ha la luna nuova in undicesima casa, qui il tema è simile a quello del leone, allargamento delle prospettive, ma soprattutto attraverso nuove persone, nuove conoscenze, per cui è una luna nuova di grande socievolezza, sfruttate tutta la settimana prossima per entrare il più possibile a contatto con nuovi ambienti, per fare nuove conoscenze, eventualmente anche per aprirvi un profilo social se è quello che volete o un sito per la vostra attività, perché è come se fosse una luna nuova che attraverso nuove persone, nuove conoscenze, nuove collaborazioni, espande le vostre possibilità. Tra l'altro è anche una luna nuova che porta a progettare, diciamo che i gemelli vengono da tre mesi in cui il teorema era verificato, il risultato era raggiunto se riuscivano a svoltare la giornata, perché comunque era tutto molto faticoso, le responsabilità erano tantissime, c'era poco da divagare. Adesso c'è la possibilità di ricominciare a fare dei progetti, per cui dire cosa voglio, come ci arrivo, quali sono i passaggi necessari, anche perché alla fine di maggio arriva Giove in gemelli e quella veramente può rappresentare un grande giro di boa positivo. Comunque luna nuova in undicesima casa, tipicamente nuove amicizie aprono strade che finora sono state chiuse o vi danno l'assist giusto per fare qualcosa che finora non avete mai fatto, per cui occhio alle nuove conoscenze. Arriviamo all'ultimo segno che è il toro o a chi ha la luna nuova in dodicesima casa. Qui c'è un clima in questo periodo un po' raccolto, c'è bisogno di stare un po' per i cavoli propri, anche perché il toro dal 20 di aprile entra nel proprio cielo, comincia diciamo un periodo molto caldo, anche a livello di grandi opportunità. In questo momento c'è bisogno di stare un po' più per conto proprio, di ritornare in contatto con se stessi, di non lasciarsi distrarre da tante cose che succedono. Luna nuova in dodicesima casa ha un grande potere, è come se l'inconscio parlasse con una voce più chiara, attraverso i sogni, attraverso le ispirazioni, le intuizioni, quelle cose che arrivano dal fondo dell'animo e non si sa bene perché, per cui cercate di silenziare tutto ciò che vi crea confusione attorno, di restare più in contatto con voi stessi e di ascoltare con particolare attenzione le vostre intuizioni, i vostri sogni, perché è come se in questo momento per il toro o per chi ha la luna nuova in un dodicesima casa, dove non arriva la mente di giorno, arrivano i sogni, arrivano le intuizioni, danno la giusta soluzione per sbloccare certe situazioni per cui, o magari anche i numeri giusti per vincere il supernalotto, chi lo sa, però prestate particolare attenzione a tutto ciò che viene dalla sfera dei sogni perché può parlare in maniera molto chiara. Anche qui il toro è come se fosse in camerino e si preparasse ad entrare in scena, dal 20 di aprile il sole torna in toro, quindi da un grande grande assist e questo riguarda anche chi ha la luna nuova in dodicesima casa perché vuol dire che ha un ascendente in toro e quindi il sole sta per tornare sull'ascendente e questo diciamo che riaccende. Comunque cercate di mettere insieme le due informazioni, dicevo quindi partite dal segno e arrivate dalla casa. Se per l'acquario parlavo di nuovi contatti e per chi ha la luna nuova in settima, parlavo di rapporti con gli altri, di confronti, se c'è un acquario che ha questa luna nuova in settima casa evidentemente potrebbero essere contatti o notizie che riguardano un contratto. Se c'è un acquario, quindi sempre contatti e notizie, che però ha l'ascendente leone e quindi la luna nuova sta in nona, potrebbero essere notizie o contatti che riguardano un viaggio, che riguardano un rapporto con un'altra città o che riguardano la possibilità di espandere certi orizzonti del lavoro. Quindi partite dal segno e andate alla casa. Il segno è più generale, la casa è più specifico. Ovviamente per fare questo dovete riapprofondire le case, i loro significati generali e sempre come al solito nella box qui sotto poi vi metterò il link per come fare a cercare un determinato grado all'interno del tema e capire i significati generali, quelli proprio più radicali delle singole case che vanno comunque conosciuti a mena dito. Io vi ringrazio per essere stati insieme, non mi resta che augurarvi buona settimana a tutti, darvi appuntamento a lunedì prossimo e soprattutto augurarvi buona luna nuova in ariete a tutti. Grazie, vi voglio bene. Grazie. Grazie. Grazie.